Sono 32 gli studenti provenienti da 25 istituti scolastici superiori del Piemonte che hanno visitato l'istituzione dell'Unione Europea a Bruxelles nel viaggio premio del concorso Diventiamo Cittadini Europei. Giunta la 29esima edizione, l'iniziativa della consulta regionale europea ha permesso a migliaia di giovani di avvicinarsi concretamente alle istituzioni sovranazionali con viaggi di approfondimento e la partecipazione a Euroscuola promosso dal Parlamento Europeo.